Ci ha dato un obiettivo, quello di arrivare a 3.700 vaccinati al giorno, quindi circa 13.000 alla settimana ed è una cosa che noi ci stiamo prestando ad organizzare, aprendo dei nuovi centri più grandi per garantire più linee di vaccinazione, dobbiamo arrivare a 30 linee di vaccinazione e siamo partiti dalla scorsa settimana, erano 8, attualmente da oggi proprio erano previste 16 linee che in realtà non hanno potuto cominciare a lavorare perché è stato sospeso l'utilizzo di AstraZeneca che ha condizionato quindi notevolmente questa accelerazione. Apriamo due grandi centri, uno a Marano, un centro il palasporto di Marano con 10 linee e l'altro al Palangarano a Bassano ed è lì che noi puntiamo ad accelerare 10 linee significa vaccinare mille persone ogni giorno, gli operatori lavorano in due turni dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera, aprire due centri con 10 linee ciascuno significa aumentare di 2.000 il numero di vaccinati giornaliero.